Ave Maria Grazie 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 Chiò cosa è? Non lo so, io non lo sta finando il suo E non lo so Usted ha già visto il spirito? Si Eh, si accreditava Come ti chiamai? Carlos Maneca un tractor? Si Per la libreta? No, non ho la libreta però in la stanza del lago di manejo la cinturita Esteban No, io non mi chiamo così Tu eres Esteban Luisa, tu conoscesse a questa chica Un poco E come se ti augura traerla qui? Iscriviti al lago igna sempre mi ha dato molto miedo trai tutto, stai d'accordo? Digo, come ci sono dei polizzi, ci sono dei mali